Ben trovati all'appuntamento con Deito Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana, come il nostro solito sono tre gli argomenti che tratteremo, si parla in apertura di violenza di genere, è stata la presa in carico e la rieducazione degli autori, adesso è legge, il Consiglio approva appunto con il voto favorevole di PD, Italia Viva, Fratelli d'Italia, la sensore di Lega e Movimento 5 Stelle. Approvato anche il bilancio d'esercizio 2021 dell'autorità portuale regionale e poi Valdichiana Senese c'è l'audizione finale a Roma per Capitale Italiana della Cultura 2026, parleremo anche di questo perché sarebbe davvero un bel vanto per la nostra regione toscana. Ma andiamo per ordine perché in apertura parliamo dell'approvazione da parte del Consiglio regionale a larga maggioranza della nuova legge per la presa in carico e rieducazione degli autori di violenza in genere a favore, hanno votato i PD, Italia Viva, Fratelli d'Italia, sono Lega e Movimento 5 Stelle e approva anche la maggioranza, un ordine del giorno, il Partito Democratico collegato, il primo firmatario della proposta di legge Andrea Vannucci, l'atto va a modificare di fatto la legge regionale 59 del 2007, inserisce i centri per gli autori di violenza di genere e anche il riconoscimento delle vittime di violenza assistita, ovvero sono i soggetti che assistono alle violenze, riconoscendole quindi come vittime e persone offese dalle violenze stesse, quindi non è più soltanto per i minorenni ma per tutti quanti. Ascoltiamo i consiglieri. Le novità sono essenzialmente due, la prima si riconosce il ruolo di vittime per coloro che assistono a violenza e l'altra si istituiscono a livello regionale gli elenchi dei centri per gli autori di violenza. Da questo punto di vista si è resa necessaria una revisione della normativa del 2007, una normativa a cui aveva lavorato ai tempi la regione toscana e che era una normativa all'avanguardia che aprì anche una strada per le altre regioni e per una legislazione nazionale in materia che aveva necessità di essere adeguata anche alle ultime novità intervenute a livello anche internazionale a partire per esempio dalla Convenzione di Istanbul. Non passa praticamente giorno che le cronache non riportino se non un femminicidio o comunque attacchi violenti nei confronti delle donne. È importante che sia possibile per queste persone che riescono a denunciare la violenza e vogliono tornare a riappropriarsi della propria vita che sia possibile per loro raggiungere facilmente i centri ed essere inserite in percorsi che gli permettano di ritornare ad una vita serena, di riappropriarsi della propria vita e quindi di guardare con fiducia al domani. È altrettanto importante che le persone che invece vengono a compiere questi atti, gli uomini, sia possibile anche per loro un percorso rieducativo attraverso quelle strutture che hanno tutti i criteri accreditati presso le regioni e negli accordi fatti tra lo Stato e la Regione. Approviamo questa legge a poche ore di distanza da un altro drammatico femminicidio che si è consumato in Toscana. È qualcosa che sconvolge le nostre coscienze e che ci invita a fare qualcosa di concreto e immediato nei confronti di tutti quelli che sono le vittime ma soprattutto anche per chi esercita questa violenza e dovrebbe essere l'obiettivo anche di questa proposta di legge che purtroppo per come è stata impostata, per la mancanza assoluta di finanziamenti ulteriori che appunto non sono previsti e non sembra essere rispondente a quelle che sono le drammatiche esigenze di questo momento storico. Ecco il motivo per cui seppur a malincuore abbiamo dato un voto di astensione anche perché all'interno di uno di questi articoli c'è un riferimento a uno sforzo di ricongiungimento relazionale che a nostro avviso può essere anche pericoloso, va contro anzi quelle che sono le raccomandazioni degli esperti che invitano a non fare quell'ultimo incontro, quell'ultimo appuntamento e di lasciare che le strade di due persone si separino, specialmente quando in mezzo ci sono anche dei minori. Ci siamo assunti la responsabilità di dare un segnale politico importante. Oggi con la proposta di legge che è stata votata, iniziativa della maggioranza, anche in Toscana a completamento di quella che è la legge che già prevede i centri per la violenza e quindi anche per l'accoglienza delle donne vittime di violenza, oggi introduciamo anche delle strutture che possano in qualche modo supportare anche la reeducazione e la presa in carico degli uomini che in qualche modo sono coinvolti in dinamiche di violenza domestica. Io credo che questo intervento debba essere eletto a completamento del quadro regionale ma soprattutto debba essere eletto non solo in un'ottica di prevenzione ma soprattutto debba funzionare anche per la presa in carico ad esempio di persone che nel 90% magari si sono macchiate anche di reati proprio su queste materie, quindi sul tema della violenza. Ecco, noi come Consiglio regionale abbiamo dato un segnale anche di evoluzione sotto questo aspetto e se davvero vogliamo che questi centri funzionino devono avere anche una funzione estremamente reeducativa, ripeto, magari nei confronti di persone che hanno anche commesso reati. Concettualmente è ovvio che non si può che essere d'accordo sul tenere in considerazione la violenza di genere come un argomento attualissimo assolutamente da valutare, da studiare, da metterci le pezze laddove è possibile ma quella proposta di legge ci sembra non risolutiva oltre quello che c'è già come legge in quanto di fatto cosa facciamo? Un percorso terapeutico con lo psicologo e è giusto questo ma non ci vuole tutto quel po' di di argomentazione legislativo per portare questo che credo sia già nell'ambito dello studio. Altra cosa è che quando uno fa una violenza di genere riconosciuta deve andare in galera. Il bilancio d'esercizio dell'autorità portuale regionale, l'aula approvato con 21 voti a favore, il partito democratico Italia Viva e 13 voti contrari, Fratelli d'Italia, Lega e Movimento 5 Stelle e il bilancio d'esercizio 2021. L'utile di esercizio è pari a 641.388 euro, viene destinato per il 20% al fondo di riserva legale per l'80% da riattribuire alla regione che lo riassegnerà come contributo straordinario per investimenti, per far fronte alle maggiori spese derivanti dal maltempo e per il drenaggio straordinario del porto di Viareggio. È importante che oggi sia stato approvato a maggioranza il bilancio dell'autorità portuale che è una dimostrazione di fiducia e di conferma per il lavoro che sta facendo, che è un lavoro molto importante sia per quello che riguarda gli interventi che l'autorità portuale sta facendo per liberare dall'insabbiamento il porto di Viareggio, sia per quello che riguarda la dimensione e la prospettiva strategica, di conferma che il ruolo dell'autorità portuale nei quattro porti in cui si sviluppa, quello di Viareggio ma anche quello dell'Isola del Giglio, all'Argentario a Porto Santo Stefano, nell'Isola d'Elba a Marina di Campo, è un lavoro molto importante a dimostrazione di quanto la regione toscana è attenta allo sviluppo e all'attività dei suoi porti. Ritengo che chi dice che non c'è bisogno dell'autorità portuale, un po' si dimentichi delle difficoltà, dei problemi, anche delle situazioni di mala gestione che si creavano quando non vi era l'autorità portuale segnatamente allora nel comune di Viareggio. L'autorità portuale ha oggi anche la gestione, sta andando avanti il progetto per il sabbiodotto, si tratta complessivamente di 7 milioni di euro che abbiamo messo come regione toscana per poter dare una struttura permanente che tenga costantemente libero l'ingresso e l'uscita per le attività dei pescatori, per le attività del cantiere, per le attività del turismo da diporto e sotto questo aspetto quindi è una buona notizia l'approvazione del bilancio e il senso anche di favore che ho potuto riscontrare il Consiglio regionale e anche verso poi l'attività operativa che segnatamente riguarda i quattro porti ma su cui il dibattito poi si concentra nel momento in cui parliamo di Viareggio. Beh, essendo un bilancio 2021 diciamo non è in linea con gli interventi programmatiche che erano previsti anche nel nostro bilancio regionale, non solo dell'autorità. Ieri in aula ovviamente è venuto fuori il tema del porto di Viareggio su cui la regione sta facendo importanti investimenti, penso 6 milioni sul sabbiodotto ma non solo, c'è tutto il mercato ittico che deve partire, su cui c'è anche un finanziamento importante del PNRR e su cui stiamo lavorando. È di tutta evidenza che ci deve essere una collaborazione fra enti, la regione, l'autorità portuale e il comune di Viareggio. Stiamo lavorando in questo senso perché il porto di Viareggio ricordo è importantissimo non solo da un punto di vista turistico, i cantieri navali ma c'è un'attività come quella della pesca che vale il 30% dell'attività ittica toscana. Non la possiamo trascurare, il porto deve essere messo in sicurezza, anche se ricordo, lo ricordava ieri anche l'opposizione, questi sono problemi che ci portiamo dietro da oltre 100 anni. Io credo che in questi tre anni si sia fatto molto, c'è da fare ovviamente ancora di più ma la strada credo sia quella giusta. Bene questo aspetto di conferma, di sostegno all'autorità portuale da parte del Presidente Ciani al quale però ho fatto presente che a Viareggio c'è un sindaco, un'amministrazione che addirittura promuovono e fanno approvare una mozione che chiede la cancellazione dell'autorità portuale e c'è una situazione, quello il Presidente Ciani non l'ha detto ma gliel'ho ricordato, dove abbiamo ancora una carenza del ruolo di segretario dell'autorità portuale che è il motivo messo per scritto dallo stesso commissario attuale per cui i ritardi di questa autorità portuale di difficoltà sicuramente concorre perché l'autorità portuale deve essere largamente migliorata. È un atteggiamento che noi stigmatizziamo ormai da tempo, abbiamo chiesto più volte al Presidente Ciani e abbiamo proposto e gli altri commissari della Commissione Ambiente l'hanno sottoscritto quindi anche la maggioranza di riallineare per quanto possibile l'andamento del bilancio della Regione con quello degli enti e delle società partecipate perché altrimenti il Consiglio regionale non è nelle condizioni naturalmente né di dare degli indirizzi cogenti né tantomeno di verificare come vengono spesi i soldi dei toscani. Vediamo subito una data, quella del 29 di marzo, sarà una data importante perché lì si sceglierà la Capitale della Cultura 2026 e il martedì 5 marzo è stato proprio il giorno invece dell'audizione finale per la Valdichiana, candidata come dicevamo in apertura a Capitale Italiana della Cultura, la Salla Spadolini del Ministero della Cultura in Roma ha colto la presentazione del dossier di candidatura di fronte alla giuria che poi valuterà i 10 progetti finalisti oltretutto le istituzioni regionali, giunte al Consiglio, consigliere regionali del territorio e parlamentari hanno voluto confermare attraverso un momento di confronto che è avvenuto online con i sindaci interessati il loro sostegno concreto alla candidatura e hanno colto l'occasione per augurare in bocca al lupo all'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese che è stata il motore della candidatura, cosa particolare è per la prima volta viene presentata proprio come candidata a città un'Unione del Comune, in questo caso quella della Valdichiana. Un progetto che parte dal territorio, un progetto che tiene conto di questa grande scoperta che è avvenuta a San Casciano dei Bagni, una scoperta unica al mondo ma è anche un racconto di storie e tradizioni differenti, un seme, un seme per costruire una proposta culturale differente in grado di attirare turisti da tutto il mondo, una proposta innovativa che sono certo colpirà la Commissione perché c'è l'idea di una Toscana bella che si sa aprire al mondo partendo dalla sua storia, dai suoi valori e dalle sue radici. Abbiamo raccontato alla Commissione la nostra visione, il nostro progetto, quello che vogliamo realizzare nel caso in cui dovessimo diventare Capitale Italiana della Cultura 2026, è un progetto ambizioso, è un progetto che supera i confini comunali ma che mette a sistema una realtà che già esiste e siamo certi che lo porteremo avanti a prescindere ma essere Capitale Italiana della Cultura 2026 significherebbe accelerare questo processo che per i nostri territori è fondamentale. Il nostro punto di forza è quello di proporre un modello, quello dell'ecosistema culturale, identificando proprio nella Valdichiana senese una forma in cui ha preso vita un ecosistema culturale fatto da un lato di elementi materiali come il suo straordinario patrimonio artistico, architettonico, paesaggistico, ma anche elementi immateriali che sono l'intelligenza creativa, la competenza artigianale, il sapere scientifico. Questi elementi stanno in un equilibrio dinamico che produce di fatto una condizione di benessere per la comunità che abita la Valdichiana e noi questo vogliamo proporlo come un modello replicabile in altre aree interne. Chiaramente non ci sfuggono quelli che sono i punti critici invece e uno tra i tanti, anzi forse il più significativo, è quello dello spopolamento che di fatto sta interessando molte delle aree interne, di quelle che vengono definite aree interne nel nostro paese. Ecco, noi crediamo che attraverso la cultura si possa trovare una via per contrastare lo spopolamento e far tornare questi luoghi ad essere luoghi desiderabili, non soltanto per coloro che lo vogliono visitare come turisti, che naturalmente sono sempre ben accolti, ma quelli che vogliono fare il proprio progetto di vita appunto in Valdichiana. E quindi in bocca al lupo alla Valdichiana senese, attenderemo quindi il 29 di marzo per sapere l'esito, intanto vi aspettiamo anche la prossima settimana per il nostro incontro, vi ricordo quegli approfondimenti e gli aggiornamenti www.inconsiglio.it. Grazie per essere stati con noi, fra sette giorni saremo ancora dentro il Consiglio. Grazie a tutti.